Immigrazione. Ora io continuo a ritenere che per salvare vite umane occorra stroncare con le buone il traffico di scafisti, trafficanti e ONG che con la loro presenza aiutano il lavoro degli scafisti, lo sporco lavoro degli scafisti. Scafisti che poi grazie a quel traffico di esseri umani comprano armi e droga. Qua non è il problema di prendiamone 5, 10, 15, biondi, bruni, donne, bambini, giovani, anziani, fino a che dall'altra parte del Mediterraneo arriverà ai malavitosi che trafficano in esseri umani il messaggio che bene o male in Italia ci si arriva, che bene o male in Europa ci si arriva, la gente continuerà a essere usata, sradicata, ammazzata e trasportata nel deserto e nel Mediterraneo a rischio di morire. Quindi chi veramente ha a cuore il futuro di milioni di africani deve evitare che qualsiasi tipo di barchino o barcone arrivi sulle coste dell'Italia e dell'Europa. Non cambierò mai idea, non solo da Ministro degli Interni, che deve tutelare la sicurezza dei confini italiani e la sicurezza degli italiani, ma anche da padre, perché un cedimento oggi da parte di chiunque significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani gestito dai mafiosi e dagli scafisti. Non cambierò mai idea. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti. Chi vuole aiutare l'Africa a tornare uno splendido continente da cui non scappare ma in cui fermarsi a vivere e a lavorare deve bloccare gli scafisti. E delle navi che non rispettano le regole, che battono bandiere straniere, che pensano di imporre con ricatto a paesi liberi e sovrani un'immigrazione fuori controllo. Questo non avverrà mai col consenso mio e della Lega.